Virtual Immersion in Science, c'è un progetto in corso del quale la Scuola Normale di Pisa ne va fiera e non lo tiene per sé nella sala azzurra del Palazzo della Carovana, conferenza di presentazione di un percorso da fare in tanti e farlo conoscere. Assolutamente sì, è uno sforzo che la Scuola Normale fa per aprirsi ancora di più alla città. È un progetto per diffondere il piacere, il divertimento e il godimento che la cultura scientifica porta, che fare scelta porta. L'obiettivo principale è di farlo conoscere ai nostri giovani. Con quale tipo di vantaggi nell'ambito di quale percorso scientifico? Tutti. Il punto di partenza è che la cultura scientifica, tutta la cultura, ma qui parliamo di cultura scientifica, è un elemento importante, uno strumento essenziale per innovare, per crescere a livello personale e per crescere a livello di paese. Uno strumento determinante. Noi vogliamo aiutare a rendere questo strumento intelligibile, comprensibile e farne capire il lato di piacere intellettuale. Ci saranno degli incontri mensili anche con gli stessi scienziati. Una curiosità, non ci sarà una presentazione dello scienziato insieme se fosse piovuto dall'alto, ma una vera e propria partenza dal basso descrivendo una vita normale e poi il colpo di genio. Sì, il punto di partenza di questi incontri è quello di far raccontare ai protagonisti qual è stato nella loro vita il momento in cui c'è stata l'intuizione, il momento in cui è cambiato qualcosa, il momento in cui è arrivata questa illuminazione che ha portato a un impatto che poi è ricaduto sulla vita anche degli altri.